Un po' più lontano di Anaïs Vujelad. Era estate e la scuola era finita. Lorenzo se ne stava tutto solo in cucina. Giocava con il trattore, con il carretto, con il passeggino delle bambole. Ma si annoiava perché erano giochi da piccoli. Posso andare in giardino? Va bene, rispose la mamma. Dopotutto sei grande adesso, vai pure. Ma non superare lo steccato. In giardino Lorenzo raccolse qualche filo d'erba e trovò un guscio di lumaca. Passeggiando qua e là, si spinse fino allo steccato. E poi un po' più lontano. Era bello fuori? Sì, rispose Lorenzo. Sono arrivato fino allo steccato e poi sono andato un po' più lontano. La mamma sospirò. Dopotutto sei grande adesso, ma non ti avventurare oltre il castagno. Nel prato Lorenzo raccolse tre bei sassi e un bastone storto. Rincorse un ragno fino allo steccato. Si spinse da solo fino al castagno. E poi un po' più lontano. Quando la mamma gli domandò se la passeggiata fosse stata bella, Lorenzo le rispose di sì. Poi le disse di essere stato al castagno e che l'indomani sarebbe andato al fiume. Sì, prudente con il letto mio, gli disse la mamma. Lorenzo le diede un bacio. Sai mamma, sono grande ormai. Il giorno dopo Lorenzo andrò dritto al fiume. Sotto gli alberi era fresco e ombreggiato. La sua casa non si vedeva più. Allora Lorenzo decise, attraversò il fiume e partì. Voleva fare un viaggio. Il sole stava tramontando. Com'è bello qui. A casa a quest'ora bisogna lavarsi i denti. E Lorenzo si sentì fiero di essere partito. Ma quando fu notte, Lorenzo si sentì un po' meno fiero. Perché era buio, perché faceva freddo. E anche perché immaginava la mamma preoccupata. Allora pensò. Forse non sono poi così grande. Quando Lorenzo si svegliò, il cielo era così chiaro, così vasto e bello, che tornare indietro sarebbe stato un peccato. «Scriverò alla mamma», pensò. «Lo farò domani sicuramente». Era mezzogiorno. Il sole scaldava le pietre. E le pietre scaldavano le zampi di Lorenzo, che cominciava a essere stanco del viaggio. Ma quando si è grandi, non si può cambiare idea ogni cinque minuti. Per fortuna, dopo una curva, il cammino si aprì in una bella valle. Lorenzo si fermò e mangiò delle ghiande di quercia. Poi si lavò i denti con un bastoncino. Ancora una volta stava scendendo la sera. «È un peccato», pensò, «essere soli quando si viaggia». Al risveglio, Lorenzo ebbe un'idea. Decisi di organizzare una grande festa. Su alcune foglie scrisse, «Ciao, vi aspetto tutti alla mia festa domani nella valle». Lorenzo. E scrisse 229 lettere, perché conosceva 229 conigli. «Scrisse anche una lettera speciale alla sua mamma». «Sono in viaggio, ma mi sono fermato nella valle per fare una festa. Sto bene e mangio cose buone. Mamma, vieni anche tu». La festa durò due giorni e la notte fu illuminata da mille lanterne colorate. «Che bello, sei contento, piccolo mio?», chiese la mamma. Lorenzo sentì un nodo in gola, ma rispose, «Sì, sono molto contento». Poi i 229 conigli tornarono a casa. E adesso? Lorenzo accese un fuoco, con le lanterne di carta rimaste. Era quasi notte, quando vide una figura avvicinarsi. Lorenzo capì subito che era una coniglietta per via delle orecchie e del vestito. «Posso sedermi vicino a te? Sono in viaggio e vorrei riposarmi un po'. «Anche io sono in viaggio», disse Lorenzo. «È bello il tuo viaggio?», gli chiese la coniglietta sconosciuta. Lorenzo non rispose. «Io», continuò la coniglietta, «penso che sia sempre un po' troppo soli quando si viaggia». «Allora vuoi tornare a casa?» «No!» «Se vuoi possiamo continuare insieme», disse Lorenzo. La notte era dolce e tiepida. La coniglietta sussurrò. «Sì, ma continueremo domani». Se ti è piaciuto il libro, in descrizione trovi il link per comprarlo. Ah, e non dimenticare di iscriverti per non perderti i prossimi libri. «Cosso». O che scopi per付ereXT